Sì, caro Babbo Natale, mi chiamo Nicola e ho otto anni. Vivo a casa con mamma, papà e mio fratello Mario. Quest'anno penso di essermi comportato bene, anche se qualche volta ho fatto arrabbiare mamma e papà e ho dato le botte al mio fratello. Per Natale voglio che uccidi la crisi, quella che dice sempre mio papà, quella che non lo fa lavorare e che ogni tanto fa piangere mamma, quella che quest'anno mi ha fatto tenere lo saino vecchio per la scuola al posto di quello di Star Wars, che volevo tanto. Anche se quest'anno mamma mi ha detto che tu hai tanto da fare e non ce la fai a portarmi i regali, io ci provo lo stesso. Puoi portarmi un tablet come quello che ha il mio amico Filippo? Ti voglio bene, Nicola. Grazie a tutti.